Allora, Nova Gorizza, che sicuramente è conosciuta tra tutti gli italiani come la città del casino, la città del divertimento, in primis è molto facilmente raggiungibile. Si tratta di un viaggio di quattro ore di macchina da Milano ed è come strutture offre veramente di tutto. C'è il Perla, il casino più grande d'Europa, e c'è anche il Park, il casino più tradizionale, quello più antico. Allora, come strutture stiamo proponendo tutto sotto un tetto, una formula da noi esportata da Las Vegas negli inizi degli anni 90, che ha reso veramente dei grandi risultati fino adesso. Immaginate che entrando alla Perla trovate sia l'ospedalità di un albergo a quattro stelle più, tre ristoranti, bar, una spa, direi il casino che si distingue per il record delle slot machine. Abbiamo addirittura 1138 e poi la nuova spa. Abbiamo aggiunto quest'anno, e in questo punto sono in fase di costruzione, anche la nuova Poker Room, che ci permetterà di ospitare tantissimi tornei internazionali, anche quelli europei più grandi. Soprattutto posso concludere che Nova Gorizza si differenzia per la sua piccola, la sua immediatezza al territorio italiano, ma soprattutto per delle bellissime strutture e anche un servizio d'accoglienza ad eccezione. Poi i prezzi sono comunque veramente vantaggiosi, visto che proponiamo diversi pacchetti, sia infrasettimanali che finesettimanali. Per esempio c'è questo bellissimo pacchetto di 299 euro, che comprende due mezze pensioni a persona in camera doppia, e di quali vengono restituiti addirittura 206 euro in gettoni gioco. Così uno, non sapendo proprio giocare, riceve questi gettoni in omaggio e può tranquillamente conoscere il mondo del divertimento e gioco. Quindi si può giocare, forse anche la forza e il prezzo e in più la possibilità di divertirsi giocando, e si può anche, ci si può occupare della propria persona, perché ci sono comunque delle buone spa, no? Giusto? Delle efficienti spa dei centri benessere. Esatto, sì. Nova Gorizza, come soprattutto il centro Perla, si distingue anche per la nuova spa Perla, inaugurata l'anno scorso. È un mondo di benessere completo, che comporta sia l'offerta dei massaggi, addirittura abbiamo pensato ai massaggi pre-gaming e post-gaming, che servono soprattutto ai giocatori di rilassarsi o comunque prendere la carica prima o dopo del gioco, ma anche ai trattamenti un po' più esigenti, parlando soprattutto degli trattamenti anti-age, oppure addirittura dei trattamenti dedicati al rigiovinamento della pelle, anche con le rose, perché devo dire anche questa cosa, perché Nova Gorizza come destinazione si distingue anche per essere conosciuta come la città delle rose. Allora le rose non soltanto fuori, ma anche dentro le nostre strutture, sia nei ristoranti, dove proponiamo dei menu a base di rose, piatti a base di rose, come anche nella spa, dove si può immangere in questo mondo dei trattamenti, anche qua dedicate al profumo delle rose. Grazie e ci rivediamo a Nova Gorizza.